Tutte le ragazze e bentornati in questo nuovo video Sono Anzizio 66 E oggi Pegasus Mira Che devo scegliere Colt Ah raga ma Pegasus ho detto Bullman Cotta a porta Secondo per questa cosa Cioè questa challenge Devo scegliere i trofei E insomma queste cose Dopo ogni termine Bullman E Colt Ma Bullman comunque non lo userò Cioè per favore Scegliere la macchina in questa cosa Perché io non mi scoperto Non metto così tante pop Perché io non mi sono sempre Non ci riesco a giocare Mi ero cosciente Poi con Bullman riesco proprio a giocare Mi spiace Ok allora Andiamo a giocare con Pegasus Ragazzi Io mi metto sempre a mappertura Perché io ho preso Guarda poi Ti prego No No Ma non l'ho capito Chi l'ho chiamata L'ho chiamata L'ho chiamata Io però Ok se io posso Non ce l'ho ucciso Come il predice power ups Cioè Come posso uccidere quello Prima in te Aveva E tipo Sei power ups Aveva schiamata i power ups Allora ma io ho detto pronti il giro Perché mi piace I like this Perché è vero Sassamino Perché è vero Sassamino Bro Allora Sopravviveni Dunque Sono di quella Versa Bro No bro Scrivete sotto i commenti Se voi Ripeto Quelli che hanno Brewstats Se avete il gadget di Colt Il nuovo gadget di Colt E se avete iscrivetevi al canale Signor Pocho Detesto Ah Proprio siamo morti insieme Bega scappa Ti prego Bega Ti prego Ti prego In Bega sto giocando bene Ma lui non vuoi pro È grande Grande Almeno scontro finale È già una cosa positiva No Cosa fare io oggi Quando le super li uso A casa 10 paura Anzi 12 Perché me l'hanno fregati a me Sì qui Scappa Non perdere tempo A sparare Eh babo Ciao Buono Babone Sette coppie Meglio di niente Meglio della posizione Cioè meglio Di certo Meglio della posizione Tra Comunque Andiamo A giocare Aspetta Puoi iniziare la canzone Che è troppo bella Però voi non l'ho sentita Allora dai Signor Perché scegli sempre Semino Non voglio che tu scegli Semino Io ora consigliare Brawler te Babo No Non me ne credo niente Devo andare Semino Perché tu sembrava Sembrava Con tutti i Brawler Scegliere io Comunque dai Allora c'è una stecca Ci sono i proiettili Infatti c'è una stecca Ci sono i proiettili Più rico Ciao Ciao Bull Ciao Bull Ciao Bull Ciao Bull Come l'ho uscita Quello voleva farla caricare il Bull Quello però si è visto da molto Ehi Aiuto attento attento Ok meno male Ok chi è la scioglie Vabbò Show the day Show the time Che come ex Che come go Ha 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 detto così il mio colpo Il mio coltoro Ha detto così il mio colpo Allora devo uccidere 9 power ups Che come ex Che come go Devo uccidere Ciao stecca Addio Almeno sono sempre Scontro finale Cioè la stiamo giocando bene La 10 power ups Credo che lo Quello non ha power ups Che lo ha sempre Power up I like cheese Che were Faduin Goaties Potenza del robot Forza Squadra Sette coppe Ogni partita Sette coppe Però meglio di niente Che were Faduin And the way Ok Ok Metti pocio Va bene Vabbè ci sta pocio Dai Proseguiamo E dai Ok Mi rendete conto Che quello Sette coppe Manca usato Di cazzo Visto che lui È mio amico Ti prego Non ti fai Con la reta Come se Sto parlando Meno male Meno male Meno male Che fortuna Ok Ah Scappo 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 Sono vivo Sono vivo Vivo Grande Mi hai curato Mi hai curato È il tempo giusto Piccolo Piccolo Aiuto Ok Devo ci dire Quello Però Allora No Quanto L'ho sciupato Grande Stavolta La testa Mi fa fuori Ci fa fuori Direttore Tutti due Però Sette coppe Sette coppe Ormai È la nostra Specialità Sette coppe Ormai È la nostra Specialità Sette coppe Sette coppe È la nostra Specialità Almeno Speriamo Di vinti Le nove Stavolta Mi prego Sempre Sette coppe Ovviamente Una partita Ogni partita Sette coppe Ma con Tic Dai Ma che sfiga Ma Tic È scarsissimo È il brawler Che ha meno vita Nel mondo Però Dai Tic Se Vi rendete Conto Tic Ha una vita Di uno Scarafaggio Ok C'è Un Stavolta Credo Che sia Una Piper Se ti fate caso Il colpo Di Cioè Il gadget Il nuovo gadget Di Colt L'ho chiedato Il nuovo gadget Di colt È una cosa Di Un Colpo Di Piper Eh Vabbò Ora Ora moriamo Grazie Ti faccio vedere Pure io Quei Gaget Allora ragazzi Spero che questo Vi sia piaciuto Non lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E noi ci vediamo Nel prossimo video E commentate Iscrivetevi al canale Guardate la cosa Che ho fatto Comunque Ci vediamo Un po' Sì Ragazzi Comunque Ah Vi volevo dire una cosa In questa settimana Non ci sarò Quindi Non potrò fare Altri video Quindi Se ne parla La settimana Prossima Ora Vi ho aperto Prima Se no Non vedete Con croquelato Il volo Comunque Se vi è piaciuto Lasciate un like L'ho detto Mille volte E noi ci vediamo Un prossimo video Vi ho avvertito E noi ci vediamo Il prossimo video Ciao ragazzi Ciao Grazie a tutti.